Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, oggi giorno del Signore, domenica, dies domini, giorno del Signore, giorno dedicato al Signore, perché tutti i giorni sono di Dio. Ricordiamo sempre che il Signore il giorno di domenica, il giorno di festa, ha chiesto il riposo, il riposo della mentra, il riposo delle membra, il riposo degli affari, per mettere al centro il culto verso di Lui, l'amore verso di Lui, l'amore verso il prossimo, per dedicarsi alla vita interiore, alla cura della propria anima, all'espressione del proprio amore verso il prossimo, prendendoci cura di chi ha bisogno del nostro aiuto, del nostro amore, del nostro affetto, ecco il giorno del Signore, un giorno dedicato a Lui, dove Lui deve primeggiare a ogni altro interesse di essere messo al secondo posto, e il Signore nella liturgia di oggi raffigura a se stesso il padrone di una vigna, e raffigura il popolo suo ad una vigna. Nel ventisettesimo capitolo del profeta Esaia si legge, in quel giorno la vigna sarà deliziosa, cantatela, io il Signore ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo per timore che la si danneggi, ne occura notte e giorno, io non sono in collera, vi fossero rovi e pruni, muoverei loro guerra, li brucierei tutti insieme questi rovi e questi prune. Ma nella prima lettura di oggi della Messa, il Signore, ugualmente, sempre per bocca del profeta Esaia, porta avanti questa immagine della vigna, ma dice che Lui ha piantato questa vigna, con vitini scelti, ha dissolato il terreno, ha preparato un frantoio, l'ha circondato a una sieve per evitare che gli animali l'andassero a danneggiare. Però al momento del raccolto dell'uva, invece di trovare uva, ha trovato uva selvatica, bacche, non uva, non era buona né per mangiare né per fare il vino. A questo punto dice, Signore, io cosa ci devo fare con questa vigna? che non mi produce il frutto buono, e Gesù nel Vangelo lo dì, nella parabola dice, il padrone ha mandato i suoi operai a raccogliere, appunto, a raccogliere i frutti in questa vigna, ma anche questi operai non erano disponibili a consegnare quanto li aspettava. Allora cosa ci devo fare con questa vigna? Gesù dice, sono venuti in mezzo a questo popolo a raccogliere frutti, frutti di salvezza, frutti di santità per l'umanità intera, ma non l'ho trovato così questo popolo. Allora non serve più allo scopo, allora prenderò questa vigna, lo darò a un altro popolo, e qui preannuncia la venuta dei pagani, preannuncia l'ingresso dei pagani nel regno di Dio. Ci sono paesi in questo mondo, fratelli, di gente molto povera, ma che ha dato l'anima al Signore. Nel 2001 fece un viaggio in Grecia, sulle orme di San Paolo, e lì c'erano alcuni teologi molto quotati, che ogni giorno davano un pensiero, ma un pensiero più razionale che spirituale. Verso la fine del viaggio fu affidato alla celebrazione eucaristica ad un missionario che tornava dal Bonzambico, che vestiva poveramente, la sua storia era più semplice di quelle che si potesse vedere, ma parlò dell'esperienza della vigna del Signore lì, nella missione dove era stato, dove la gente mangiava la parola di Dio, viveva secondo la parola di Dio, e entusiasmò tutti i pellegrini quel viaggio, nel vedere quant'amore di Dio c'era in quel popolo, in quella nazione, non so, non posso dire in tutta la nazione, ma certamente in quelle missioni dove lui era stato, ecco la vigna del Signore, di produrre frutti di pace, frutti di salvezza, ecco allora noi ci chiediamo, ma se Gesù venisse oggi a raccogliere i frutti in mezzo a noi, quante ne troverebbe? Come potrebbe vendemmiare in mezzo a noi? Cosa raccoglierebbe? Certo, ci sono tante anime generose, tante anime che hanno dato la vita per Gesù Cristo, dobbiamo ricordare qualche giorno fa, dei giovani santi dei nostri tempi, ma il popolo può essere chiamato vigna del Signore in mezzo a questi scandali, ingiustizie, sopraffazioni, corruzioni, tradimenti e via dicendo, sono questi i frutti che Gesù si aspetta dalla sua Chiesa, dal suo popolo? Ecco allora l'invito che il Signore ci fa oggi, fratelli, a lasciarci rinnovare, abbiamo bisogno di essere liberati dal male che è dentro di noi, e questo non avviene con la buona volontà, con le buone intenzioni, avviene attraverso una rinascita, vita nuova, come Gesù stesso dice nel Vangelo di Giovanni, se uno non rinasce dall'altro non può vedere il regno di Dio, e per bocca dei profeti dice il Signore, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò in voi il mio spirito, rivivrete, porrò in voi il mio spirito, vi partecipo alla mia vita, il mio essere farò comunione con voi e vi faccio vivere, infatti la nostra vita, fratelli, da questo dipende, da questa comunione con Dio, da questa relazione con Dio, per questo allora noi abbiamo bisogno di coltivare questa relazione, prima di tutto con l'obbedienza alla Sua parola, sottomissione alla Sua parola, come tante volte il genitore dice al bambino, ascoltami, seguimi, tu non conosci certe via, seguimi, fidati di me, e così il Signore dice a noi, prima di tutto fidati di me, nutriti della mia parola, nutriti del mio comore, accogli il mio spirito nella tua vita, la nostra salvezza, da questo dipende, non da quello che facciamo, ma da quello che accogliamo, perché il nostro operare dipende da ciò che abbiamo ricevuto. Questi giorni chiedevo a una persona che odiava a morte un parente, e ho chiesto, ma quel parente quanto amore aveva ricevuto? Niente mi ha risposto, questo ti ha dato, non aveva, e così anche tu non hai, e non dai, lasciati amare. La prima cosa che il Signore ci chiede è che noi ci lasciamo amare. Abbiamo sentito all'inizio la premura che il Signore ha per la Sua vigna, la irriga, la coltiva, ne se ne prende cura, la difende, e questo è il Signore in mezzo a noi, fratelli. E oggi, più che mai, Lui chiede a noi di lasciarci rigenerare, rinnovare, dallo spirito del suo amore, e che ho la parola di Dio nella nostra vita. Ecco, allora, bisogna di coltivare la preghiera, non di dire le preghiere, ma di coltivare questa relazione. Allora, diciamo le preghiere per coltivare questa relazione, e le preghiere scritte ci possono servire per istruirci, per stimolarci, ma il cuore deve pregare. E ripeto ancora, quando il cuore prega, essendo la vicinanza di Dio, deve smettere di pregare e lasciare che il Signore parli Lui nell'ambito del nostro cuore. e dobbiamo dare questi spazi al Signore nell'adorazione, nella contemplazione, nel silenzio interiore, ma anche nella lode continua, nella lode continua, anche in mezzo alle difficoltà della vita. E in questi tempi noi abbiamo molti motivi per lodare il Signore nelle difficoltà. Sono occasioni per crescere enormemente in questa vita interiore e tu adesso stai a delle preoccupazioni. Prova a lodare il Signore che si sta occupando di te e fidati di Lui che si sta occupando di te. Se hai un malessere, lode il Signore che si sta occupando di te, che si prende cura della tua vita, che ti difende e provveda ciò che è necessario per la tua esistenza. Perciò dal cuore dell'uomo, fratelli, deve elevarsi continuamente questo inno di lode, questo inno di adorazione, di ammirazione del Signore e questa quando lo rimette dentro di noi poi deve produrre frutti, frutti, il Signore vuole cogliere frutti, sono venuto perché ha abbiato la vita, l'ha abbiata in abbondanza, che ha abbiato la gioia e che la vostra gioia sia piena, che vi portiate frutto e che il vostro frutto sia abbondante e duraturo. Dice Gesù nel Vangelo sono venuto per questo perché portiate frutti, eccoci Signore Gesù questa è la vigna di oggi dobbiamo riconoscere che molti animali selvatici l'hanno invas l'hanno distrutta l'hanno infangata oggi Signore abbiamo bisogno più che mai di te tu che sei il padrone di questa vigna tu che te ne prendi cura con molto affetto che hai giurato di fare giustizia a questa vigna di liberarla a tutti ciò che la danneggia eccoci Signore vieni manifesta la tua gloria vieni in mezzo a questa vigna rimuovi tutti le sterpagli che danneggiano questa vigna difendila con la tua mano potente nutrila col tuo spirito d'amore irrigala con l'acqua della tua grazia perché sia rigogliosa e produca frutti abbondanti non per la nostra soddisfazione ma per la tua gloria per l'avvento del tuo regno Vergine Santissima che sei sempre accanto al figlio tuo Gesù Cristo che sei membro della Chiesa quindi soffri insieme alla Chiesa che ti appartiene di cui tu fai parte e tu che intercedi per la Chiesa donaci questo cuore che sa per cantare le lode di Dio donaci rendici partecipi di questo amore verso il figlio tuo Gesù Cristo perché risplende la sua gloria in mezzo a noi e la tua vigna la vigna del Signore forte frutti abbondanti per la sua gloria per la salvezza dell'umanità a Gesù la lode la gloria per tutti i secoli e dei secoli Amen è oggi giorno del Signore fratelli l'abbondanza l'abbondanza della grazia di Dio scende su di voi animi la vostra giornata la ricolmi della sua potenza e conduci i vostri passi verso quella pienezza di vita e d'amore che il Signore ha seminato nei vostri cuori Amen l'abbondanza